Alefri si occupa da anni con successo della riparazione di gruppi frigoriferi per autocarro, carrier e tecno-service Thermo King. Alefri si occupa da anni con successo della riparazione di gruppi frigoriferi per autocarro, autorizzata fra l'altro per i marchi carrier e tecno-service Thermo King. Tra i servizi offerti, Alefri dispone di un'attrezzata officina e carri-officina per un'assistenza su strada o a domicilio, per la riparazione di impianti frigoriferi per autocarri, ma anche per l'assistenza sulla rifrigerazione di magazzini, celle frigorifere e condizionamento industriale. Uno staff tecnico specializzato è sempre disponibile per qualsiasi informazione o sopralluogo. Competenza e affidabilità associati alla rapidità fanno della Alefri i punti di forza, considerando in primo luogo la soddisfazione del cliente. Per qualsiasi informazione potete contattare direttamente il numero di telefono 0131 24 05 11 oppure inviare un'email all'indirizzo alefri at ale-free.it. Grazie a tutti.